Oggi riprendiamo il discorso sulla rappresentazione dei numeri, riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato due settimane fa sulla rappresentazione dei numeri, ricordandoci quello che abbiamo visto sui numeri naturali, ciò che abbiamo visto nella rappresentazione in binario dei numeri naturali, quindi positivi, interi, che si basava essenzialmente sulla formuletta dell'annotazione posizionale, poi abbiamo imparato un pochino a fare i calcoli e in chiusura dell'azione vi ho segnalato sia questo sito qua, integre.exposed, che ci può permettere di fare i calcoli, per cui se tu dici che io voglio sapere quanto vale 37, lo scrivi qua e lui ti fa vedere quali sono i bit, su 8 bit, su 16, su 32, la versione binaria, tra l'altro questo sito ti permette anche di giocare cambiando i bit e vedendo che cosa cambia a livello di valore decimale, il fatto che i valori decimali vengano spesso rappresentati in forma esadecimale, su base 16, quindi ho cliccato il numero a caso, questo numero binario che è molto difficile da leggere, scrivere, ricopiare, si può scrivere anche con questa forma in base 16, dove ovviamente il 5 rappresenta le ultime 4 cifre, 0101, il 7 rappresenta le 4 cifre immediatamente successive, 0111 che fa 7, A vale 10 e rappresenta le 4 cifre ancora successive che sono queste 4, 1010 e il 2 rappresenta le cifre ancora alla sua sinistra, sarebbero 00 che non si vedono, 0010, ok? Quindi quando vediamo un numero scritto in binario o quando vediamo un numero scritto in base 16, in realtà sono la stessa cosa, semplicemente vediamo la base 16, oltre come una base numerica, come tutte le altre, ma come una scorciatoia per scrivere con 4 simboli quelli che dovrebbero essere 16 simboli, in certo senso, cioè i 16 bit del numero. Quindi su questo sito qua si può giocare, ma la stessa cosa possiamo farla, potete farla anche in Python, dove qua ho riassunto le funzioncine che servono per convertire da una base a un'altra. Noi conosciamo già la funzione int che usavamo, ad esempio, negli input, per prendere una stringa e convertirla in un numero. Ecco, la funzione int normalmente lavora in base 10 e non ci sarebbe aspettato, non ci saremmo aspettati diversamente, ma è possibile dire alla funzione int di lavorare in una base diversa, semplicemente aggiungendo un parametro base uguale. Quindi se noi abbiamo un numero, che ne so, 344, che ovviamente per scrivere dei numeri in una base diversa dal 10 li devo usare come string, perché altrimenti naturalmente lui interpreterebbe la base 10, dicendo convertimi 344 da stringa a intero assumendo che il numero sia scritto in base 5. E allora in questo caso Python cosa farà? Farà 4 più 4 per 5 più 3 per 5 alla seconda. No? Quindi qua in base 5 userà la formuletta solita con le potenze del 5. Quindi 4 più 4 per 5 è 20, va a 24, più 3 per 5 alla seconda, cioè 3 per 25, 75 più 24, sembrerebbe proprio che faccia 99. Quindi per convertire, se abbiamo bisogno di fare conversioni o delle verifiche, abbiamo Python sotto mano, anche l'esame, ce l'avete, possiamo usare, diciamo, semplicemente la funzione int per fare conversioni. E per fare conversioni inversa invece, vabbè, noi sappiamo già che se io ho un numero intero e chiamo la funzione str mi dà una stringa che contiene la rappresentazione decimale del numero, ma di fatto non ci serve, perché basterebbe stampare il numero, ma esistono anche le funzioni bin e oct ex che restituiscono una stringa, quindi funzionano come str, solo che questa stringa che rappresenta l'intero è rappresentata in base 2, in base 8 o in base 16. In base 16, e a volte lo trovate anche scritto magari in alcuni giustizzi d'esame, per riconoscere che una stringa rappresenta un numero in base 16 si mette davanti a volte 0x, dove x sta per hexadecimal, la x ricorda questa x di hexadecimal di base 16. E a volte il numero binario si scrive con la b davanti, 0b davanti e 0x davanti. Ma queste sono sintassi specifiche di Python che poi a volte ci ritroviamo. Quindi, con questo, cioè, se vogliamo verificare i calcoli che facciamo agli esercizi, questo, diciamo, ci aiuta a farlo in entrambi i modi. Ovviamente fino a quando non stiamo nei numeri naturali, cioè positivi, interi positivi. Allora, lo scopo di oggi è quello di rimuovere questi due vincoli. Togliamo prima il vincolo sui positivi e poi togliamo il vincolo sugli interi. Ok? Allora, numeri relativi. Passiamo dai numeri naturali ai numeri relativi. E quindi ci poniamo il problema di come rappresentare i numeri minori di 0, i sempre interi. Allora, noi in base 10 abbiamo imparato a usare il segno, segno più o segno meno davanti a un numero. E quindi meno 8 è una cosa diversa da più 8, dove il più 8 lo lasciamo sottinteso, scrivevamo semplicemente 8. Quindi per noi un numero relativo in decimale si rappresenta con un simbolo particolare, che è il segno, davanti a un numero intero, naturale, scusate, davanti a un numero naturale. Potremmo pensare di fare la stessa cosa anche in binario, con una rappresentazione che esiste, ma si usa poco, che si chiama modulo e segno. Cioè vado a rappresentare il modulo, cioè il valore assoluto del numero, e il segno separatamente. Vi faccio vedere come funzionerebbe, poi ragioniamo sul perché non si usa e quale invece è una rappresentazione alternativa, che a prima vista ci sembra meno intuitiva, ma poi è molto più comoda, che è la rappresentazione in complemento 2. Allora, rappresentazione in modulo e segno significa scimmiottare o copiare in binario ciò che siamo abituati a fare in decimale. E quindi ad esempio rappresentare per un numero relativo il segno e il valore assoluto, meno 8, il meno e l'8. Ovviamente per rappresentare il segno mi servirà un bit, mi serve almeno un bit di quelli che ho a disposizione nella mia parola con cui codifico il numero da dedicare per il segno. Supponiamo che, insomma, il bit più significativo, quello più a sinistra. Il bit più a sinistra decidiamo di non usarlo più per 2 alla n-1, ma lo usiamo a parte come segno. E gli altri bit invece li useremo come valore assoluto, come modulo. Cioè, cosa facciamo? Qui lo facciamo su 4 bit perché è più semplice, no? Per brevità. Noi pensiamo, se rappresentiamo i numeri su 4 bit, di usare il primo bit come bit di segno e gli altri bit come bit di valore assoluto, di modulo. Il bit di segno, per convenzione, lasciamo 0 nel caso in cui il segno che vogliamo rappresentare sia positivo, 1 nel caso in cui sia negativo. Questa è una scelta. Si potrebbe usare anche la scelta opposta, ma è più naturale questa. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho questo codifica 0 0 1 1 su 4 bit in modulo e segno, corrisponderà al numero intero più 3 in decimale. Perché? Più perché inizia con 0, il bit di segno vale 0. 3 perché 0 1 1 è la codifica in binario del valore 3. Quindi facciamo la stessa cosa. Semplicemente su 4 bit sappiamo che dobbiamo usare 1 per il segno e ne rimangono solamente 3 per il valore assoluto, per il modulo. Quindi in questo caso il numero più grande che posso rappresentare sarà più 7. 0 1 1 1. Però mentre invece su 4 bit in binario puro potevo rappresentare i numeri fino al 15. 1 1 1 1. E qui il primo bit non lo posso più usare, lo uso come segno. Però ha il vantaggio ovviamente che ho dei numeri negativi. Posso rappresentare i numeri negativi. meno 3 sarà la stessa cosa di 3, cioè lo stesso valore assoluto, però con segno 1, cioè con segno negativo. Poi c'è una piccola anomalia del fatto che il numero 0, ma già anche in decimale, si può scrivere sia come più 0 che come meno 0 e quindi in binario ho due rappresentazioni diverse che entrambi valgono 0. Cioè il più 0, meno 0, poi in realtà dovrò poi fare attenzione quando faccio i conti a rendermi conto che questi due valori sono nello stesso valore, ma si può scrivere in due modi diversi. Allora, questo sembra naturale, sembra ovvio, sembra intuitivo, no? Usare questa rappresentazione. Non dobbiamo imparare nulla di più perché di fatto il modulo è un numero positivo per definizione, quindi possiamo rappresentarlo esattamente come rappresentavamo i numeri naturali fino a 10 minuti fa e poi ci metto il segno davanti. Il motivo per cui non si usa in informatica, salvo in un paio di casi di nicchia, la rappresentazione in modulo segno è perché è scomoda da usare. Noi ormai ci abbiamo fatto il callo, ma quando ci dicono, senti, quanto fa 18 meno meno 32? Cioè è una normalissima operazione tra due numeri relativi. Allora, nella nostra testa si mette in moto una macchina che ti dice allora se devo fare una somma o una sottrazione tra numeri relativi, vado a vedere i segni dei due, diciamo, numeri che sto cercando di elaborare, vado a vedere se i segni sono uguali, se i segni sono diversi, se quella che ho dettato prima era una sottrazione, non mi ricordo più, 18 meno o meno 42, qualcosa del genere. Ma noi in realtà sappiamo che dobbiamo fare una somma, perché una sottrazione di un numero positivo meno un numero negativo in realtà ti dà un numero positivo il cui valore assoluto è la somma dei valori assoluti. Queste sono cose che quando abbiamo fatto le scuole medie probabilmente abbiamo imparato. E quindi ci siamo abituati come se fosse normale che quando c'è una somma, infatti la chiamavamo somma algebrica, questa in realtà può voler dire una somma o una sottrazione, a seconda della combo dei segni dei due addendi. E' idem per una sottrazione. Allora, qui sopra è una pezzo di una tabellina che ci dice cosa facciamo in realtà quando dobbiamo fare un'operazione tra due numeri A più B, che siano positivi o negativi. Ma non importa, questa tabellina qua la facciamo, la applichiamo in automatico, ma se io penso di dover realizzare un circuito elettronico che fa questo calcolo, gli sto complicando la vita. Perché quando dico fai la somma, in realtà sarà o una somma o una differenza. E poi la differenza è A-B oppure B-A, a seconda di quale dei due sei più grande. E poi il segno del risultato, devo andare a vedere i segni degli addendi e quale dei due addendi fosse maggiore o minore, lo sappiamo, no? Però è un'operazione che richiede dei passaggi un po' noiosi per un obiettivo che è banale, sto facendo una somma. Ok? E quindi, soprattutto, diciamo quasi all'inizio dell'informatica, quando si doveva risparmiare molto sulla dimensione dei circuiti, si sono inventati dei metodi diversi. Si è studiato e si è trovato un metodo migliore per rappresentare i numeri negativi. Qui c'è, sull'altro, ho saltato questo slide in mezzo, ma diceva semplicemente qual è il numero più piccolo, il numero più grande che posso rappresentare. In questa organizzazione è il modulo di segno che ovviamente è col meno davanti o col più davanti il numero più grande che potrei rappresentare con n-1 bit. Perché ovviamente è un bit in meno. Quindi, se ho 8 bit, posso rappresentare da più 2 alla 7 a meno 2 alla 7. Oppure, se fosse in binario puro, rappresentare da 0 a 2 alla 8 meno 1 sempre, c'è sempre meno 1. Quindi, mi sto giocando metà dei numeri positivi per poter rappresentare i numeri negativi in termini di combinazione di bit possibili. Ma, invece, vediamo invece la rappresentazione che si usa normalmente. Allora, la rappresentazione che si usa normalmente, detta del complemento 2, si basa su una modifica minima, marginale, della formuletta della somma delle potenze. Allora, noi sappiamo che quando vediamo un numero scritto come sequenza di bit, subito ci associamo 2 alla 0, 2 alla 1, 2 alla 2, 2 alla 3 ai vari bit. Ecco, il complemento 2 dice continuo a fare la stessa cosa, ma il bit più significativo prendino con un peso negativo. cioè il suo peso 2 alla n meno 1 meno e poi tutto il resto è uguale. Quindi, in modulo segno, quando io dico meno 8, l'operazione che fa quel meno è una moltiplicazione. prendo l'8 e lo moltiplico per meno 1. Quindi un operatore moltiplicativo. Invece qua è un operatore additivo. Voglio un numero negativo. Prendo un numero positivo, cioè questa parte qua, scusate, questa parte qua di tutte le potenze positive e se lo voglio far diventare positivo ci aggiungo un termine negativo. sommo un numero negativo. Quanto negativo? Beh, con la stessa potenza che avrebbe se fosse positiva in quel punto lì. 2 alla 7 meno 2 alla 7. Ok? L'unica variante è questa. E quindi, chiaramente, i valori dei numeri sono diversi. O meglio, se il bit più significativo è 0, allora il numero rimane positivo perché 0 moltiplicato per meno fa sempre 0 e quindi è come se non ci fosse. Quindi tutti i numeri positivi in complemento a 2 si rappresentano in modo identico al caso normale. Invece, se il primo bit è 1, allora il mio numero sarà sicuramente negativo perché io sto sommando meno, in questo caso specifico, 2 alla 7, quindi meno 128 più un numero positivo che è dato da questi pesi qua che poi dipende da dove sono messi gli uni quanto vale questo numero ma quel numero lì, la parte positiva varia tra 0 e 127 2 alla 7 meno 1 quindi nel caso in cui il primo bit che chiamiamo bit di segno valga 1 il mio numero di fatto è la sommatoria tra una zavorra negativa e un numero positivo che lo porta su lo porta su ma la somma dei termini positivi non supererà mai, non sarà mai maggiore del valore della zavorra e quindi il numero rimane sempre negativo quindi non c'è c'è un pezzo negativo e un pezzo positivo che si sommano ma è garantito che se il pezzo negativo c'è il risultato è negativo quindi non c'è dubbio tipo no ma magari sommando i fattori positivi arrivo a un risultato maggiore di 0 no perché se anche li mettersi tutti arrivi solo a un'unità in meno di quella che ti servirebbe per arrivare a 0 adesso poi le vediamo meglio con gli esempi c'è una domanda dimmi allora in questo caso qui questo numero è un numero positivo ok perché è un numero positivo perché avrebbe un bit di segno che vale 0 e quindi il termine meno 2 alla 7 non c'è nella sommatoria qui queste sono le potenze possibili poi le potenze che ci mettono nella sommatoria sono solamente quelle a cui corrisponde un 1 quindi anche il 2 alla 0 non c'è ok quindi sarà questo numero è 2 alla 1 più 2 alla 3 più 2 alla 5 più 2 alla 6 che quindi fa cos'è 64 più 32 più 8 più 2 quello che è vediamo quest'altro numero questo è un numero su 6 bit se mi dicono e me lo devono dire che è codificato il complemento 2 quanto vale parentesi su me lo devono dire se io vi dessi solo questo numero 1 0 1 1 0 1 e vi chiedessi quanto fa la risposta non c'è perché a seconda che questo sia un numero codificato in binario puro allora vale 1 più 4 più 8 più 32 a seconda che sia codificato in modulo e segno allora vale meno 13 8 più 4 più 1 a seconda che sia codificato il complemento 2 adesso lo facciamo il conto vale un valore diverso ok quindi avere una sequenza di bit il computer quando vede una sequenza di bit non sa non può sapere com'è codificata glielo devo dire io a parte devo già saperlo io come programmatore che sto usando una codifica piuttosto che un'altra quindi la decodifica di un numero non è insita nel numero stesso ma è un'informazione a parte ok quindi contruiamo sempre che quando ci stanno chiedendo una conversione sia chiaro qual è il formato che ci interessa nello specifico questo numero qui quanto vale allora poi dopo ci sono i passaggini qua con le palline che scendono ma non mi interessa questo è numero su 6 bit e quindi i pesi da associare a questi bit saranno come al solito 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 2 alla 4 meno 2 alla 5 in questo caso ovviamente dobbiamo moltiplicarli per gli uni e quindi abbiamo un meno 32 qua un meno 8 meno 4 scusate meno 32 più 8 più 4 più 1 ok quindi facciamo la solita sommatoria con la differenza che questo elemento qua non vale più 32 bensì vale meno 32 quindi questo numero che cos'è? è meno 32 più 8 che fa meno 20 4 dite voi più 4 che fa meno 20 più 1 che fa meno 19 ok? ah ce l'ho anche scritto qua quindi è giusto quindi questo è il modo con cui si codifichano questi numeri adesso impariamo a fare le conversioni cioè così facilmente e poi impareremo a fare anche le operazioni di somma sottrazione su numeri codificati in questo modo e vedremo che ci tornano utili quindi questo complemento 2 è il metodo che normalmente si usa come faccio vabbè questo qua scusate è ripetuto allora come faccio a fare le conversioni allora da decimale a complemento 2 o da complemento 2 a decimale proviamo anche qua a fare a inventarci dei numeri e giocarci un pochino allora proviamo a convertire ad esempio un numero qualunque facciamo 8 bit numero su 8 bit dai quanti ne ho messi ne ho messi 9 da complemento 2 a decimale ok numero che mi dicono essere scritto il complemento 2 il numero che ho scritto così è un po' a casaccia è 1 1 0 0 1 1 1 0 l'avremo per brevità potuto anche scrivere in base 16 come 12 quindi abc 10 11 12 c e questo invece 14 è un c e in base 16 vabbè allora come possiamo fare beh possiamo applicare la formula quindi abbiamo 1 che è il bidisegno e poi di 1 0 0 1 1 1 0 che è il resto del numero questo è il numero su 8 bit e quindi il bidisegno pari a 1 mi dà un peso pari a meno 2 alla 7 meno 2 alla 7 cioè meno 128 il resto del numero vabbè lo faccio come al solito e quindi qui avrò un 64 più 8 più 4 più 2 giusto 1 2 4 8 16 72 64 sì e quindi quanto fa fa 64 più 8 fa 4 8 12 72 72 più 4 76 più 2 78 quindi questo numero lo posso leggere come meno 128 più 78 quanto fa quanto fa e fa meno 50 chiaramente se il numero di bit non fosse 8 fosse di più o di meno il meccanismo è lo stesso cambia solamente qual è la potenza del numero del bit di peso negativo attenzione che io potrei anche chiedervi di convertire quest'altro numero da complemento a 2 a decimale e vabbè è un numero positivo cioè se il numero è il complemento a 2 non è detto che sia negativo può essere positivo o negativo in questo caso è positivo quindi abbiamo 0 e poi il resto del numero 101 seguito da 4 zeri quindi questo sarà 0 più qui sto 64 più 16 e quindi fa 64 più 16 fa 80 cioè nel caso in cui il primo bit sia 0 tratto il numero normalmente come se lavorassimo col binario puro con quei numeri naturali quindi non c'è nulla di speciale da fare qual è il numero più piccolo che posso scrivere? poi ci chiediamo quanto vale ma come lo posso scrivere il numero più piccolo in assoluto? esatto ho una sommatoria di cui c'ho un pezzo negativo dei pezzi positivi quindi per scrivere il numero più piccolo che posso metto il numero negativo e nessuno i numeri positivi sarà negativo il numero più piccolo e non mi conviene tirarlo su perché se io mettessi anche solo un altro uno da qualche parte diventa maggiore e quindi questo quanto vale in generale vale meno due alla n quindi scusate n sì n meno uno meno meno due alla settima perché o n bit sono numerati da zero n meno uno le potenze ho dimenticato sempre il meno uno quindi su 8 bit è meno due alla settima quello che avevamo usato prima meno 128 no? qua e il numero più grande che posso scrivere effettivamente inverso non metto il peso negativo metto tutti quelli positivi che posso mettere se aggiungo un uno di sicuro il numero crescerà quindi per avere il numero massimo li metto tutti e quanto fa? e questo corrisponde al massimo numero naturale che posso esprimere con un bit in meno e quindi sarà due alla n meno uno meno uno due alla k meno uno se ho k bit in questo caso i bit che ho non sono più n ma sono n meno uno perché il primo l'ho messo a zero a tacere che sarebbe il bit di segno meno uno perché chiaramente uno in meno rispetto alla necessità di avere un bit in più e il numero negativo più grande negativo il massimo numero negativo che è meno uno come si ottiene il numero meno uno è il più grande tra i negativi e quindi è negativo e più grande cioè prendo la zavorra negativa e però la sollevo il più possibile che posso fino ad arrivare al pelo dello zero appena andata via la prova di analisi non dirmi sta cosa il più piccolo è un valore assoluto no sarebbe ok meno uno è maggiore di meno centoventotto quindi il più grande numero negativo è il più vicino allo zero quindi più grande in senso algebrico non in valore assoluto e questo lo vediamo perché abbiamo il bidisegno che vale meno due all'n meno uno a cui sommiamo e in realtà sommiamo questo signore qua di prima questa sfilza di uni che sappiamo già abbiamo appena detto che fa questo quindi se lo copio faccio i passaggi questi due pezzi sono uguali se semplifica non rimane meno uno quindi guardiamolo un po' questo numero uno con tutti i zeri è il più negativo che c'è e uno con tutti i uni è ancora negativo ma un po' meno negativo dell'altro se così si può dire perché è più vicino allo zero dal meno centoventotto che era l'abisso da cui sono partito sono salito più in alto che potevo se voglio salire un po' di più è il numero non negativo più piccolo che sarà lo zero non ho scritto positivo perché lo zero non è positivo che si scrive ovviamente con tutti i zeri quindi meno uno si scrive così e zero si scrive così quindi se volessi prendere adesso facciamolo magari su 4 bit per non avere delle sfizie troppo lunghe la sequenza dei numeri io ho zero uno due tre quattro e questi sono numeri positivi cinque sei sette ok quindi questo è lo zero scrivo solo in fondo che questo è il sette ecco se voglio continuare con la retta dei numeri a destra non posso andare perché ho finito i numeri possibili a sinistra posso andare sinistra c'è prima con i numeri negativi quindi avrò mi faccio spazio davanti meno uno poi avrò il meno due meno tre meno quattro questo scriviamolo giusto per avere un riferimento che se no ci perdiamo questo è meno quattro perché meno quattro? meno otto più quattro poi abbiamo meno cinque meno otto più tre tre è zero uno uno quindi questo è il meno cinque e meno sei meno otto più due meno sette meno otto più uno e meno otto è meno otto e non mi rompete le scatole con i positivi quindi la sequenza dei numeri in binario in complemento due parte da il numero più negativo che c'è uno e tutti i zeri poi c'è il balletto dei numeri positivi che via via si incrementano mantenendo sempre l'uno davanti fino al numero più più alto tra i negativi meno uno poi c'è zero e poi cominciano i numeri che già conosciamo positivi che è tutto lo zero davanti ok? e la conversione inversa e la conversione inversa allora anche qua ci sono due modi quindi ti do un numero decimale e ti chiedo quanto vale questo numero se rappresentato in complemento due su un certo numero di bit ti devo sempre sapere quanti bit ho a disposizione quindi immaginiamo di voler rappresentare meno 17 in complemento due su 6 bit e innanzitutto ci sta su 6 bit andiamo un po' a vedere su 6 bit rappresento i numeri da meno 2 alla quinta che è meno 32 a più 2 alla quinta meno 1 quindi da meno 32 a più 31 va quindi sì quindi sì su 6 bit posso rappresentare da meno 32 a più 31 e quindi ci sto ok quanto vale meno 17 allora ci sono due modi di lavorare io vi insegno prima quello che preferisco perché mi sembra più veloce poi vi insegno quello che c'è sulle slide che è più metodico ma palloso allora siamo su 6 bit questo è il numero negativo forse è il numero positivo ci metto uno 0 converto il numero finito non perdiamoci tempo visto che il numero negativo sarà 1 e 5 cose per forza ma 1 mi dà meno 32 cosa sono gli xxx gli xxx sono la cosa che devo sommare 32 per avere meno 17 no? e cosa devo sommare a meno 32 per avere meno 17 ho il calcio ho scelto il numero difficile 32 22 22 22 meno 7 15 cioè x uguale a 15 oh per forza è positivo x e allora 15 come sarà? sarà su 5 bit 0 seguito da 4 1 8 4 2 1 fa 15 no? fine cioè pongo il bit di segno mi dà la zavorra e mi chiedo quanto mi devo alzare dalla zavorra di 15 per arrivare al mio numero che è il meno 17 ok? quindi mi riconduco a chiedere qual è la parte positiva del numero e la parte positiva del numero sarà la differenza tra il bit di segno meno 2 alla 5 in questo caso e il numero che voglio rappresentare allora se vogliamo per averlo poi quando ci dimentichiamo riprendiamo gli appunti più 15 va rappresentato su 5 bit in binario puro usiamo il termine binario puro per dire i numeri naturali non la rappresentazione normale che sarebbero le xxx le 5 x che avevamo e quindi vale vale 0 e 4 1 ok? questo mi pare il metodo più diretto c'è un numero vedo quanto vale altrimenti esiste un metodo che è riassunto in questa slide che ovviamente dice se il numero è positivo ci metti uno 0 e poi converti il resto va bene se il numero è negativo ti dice converti il valore assoluto in binario quindi nel mio caso del meno 17 più 17 prendi il valore assoluto poi inverti tutti i bit e poi e poi somma 1 sembra quei giochi di prestigio fai cose come le carte e poi alla fine ti viene fuori e lascia di cuore cosa vuol dire in questo caso? metodo a macchinetta lo dico perché fai cose senza senza dover pensare vuol dire che se io ho meno 17 lo converto in tre passaggi primo passaggio valore assoluto che fa 17 in binario sempre su 6 bit e lavoriamo quindi sempre 6 devono essere e 16 più 1 quindi 32 no 16 8 4 2 1 primo passo secondo passo inverti i bit e quindi quel numero i dove c'era 0 scrivo 1 dove c'era 1 scrivo 0 3 somma 1 cioè prendo quel numero là e ci sommo 1 oh su 6 bit l'1 si scrive su 6 bit e il risultato di questa somma è 1 0 1 1 1 qui siamo fortunati perché non c'è nessun riporto se fossero riporti da fare si fa la somma come abbiamo parlato la volta scorsa e il risultato che otteniamo ovviamente è uguale a questo a quello di prima sempre meno 17 ok? quindi il primo è un metodo proprio numerico il secondo invece è un metodo più meccanico senza offerta per i meccanici però entrambi danno lo stesso risultato fate solo attenzione perché questo metodo macchinetta dà solfazione per cui a volte scatta un riflesso strano per cui quando vedete scritto complemento 2 applicate sta roba qua no non voi gente in giro per cui anche quando uno dice convertire da complemento 2 decimale uno vede questo dice ah è un complemento 2 quindi devo fare invertire i bit e sommare 1 che c'entra niente ok questa operazione qua tra l'altro per inciso invertire i bit e sommare 1 significa moltiplicare per meno 1 nell'algebra dei numeri complemento 2 questo è il motivo per cui funziona però o sottrarre da meno 256 ma non me lo complico quindi per convertire da complemento 2 a decimale semplice faccio la somma delle potenze ricordandovi che il primo bit ha una potenza negativa come facevamo sopra 0 più oppure meno tanta roba più il resto per fare la conversione inversa da decimale a complemento 2 o vado a scorporare la potenza negativa e trovo qual è il resto oppure prendo il valore positivo corrispondente e lo metto nella macchinetta di inversione e qui abbiamo imparato a fare le conversioni qui c'è un esempio di un meno 12 che giro fa ma vedete che il meccanismo prende il positivo complemento i bit e sommo 1 qua è un pochino più rognoso perché 1 più 1 mi da 0 mi da un riporto che poi è stato sommato qua e poi si è fermato sul terzo bit ma alla fine era una somma non c'è nulla di speciale ecco perché diventiamo curiosamente strani a fare queste operazioni qua col segno col bidisegno strano è perché ci torna comodissimo nelle operazioni quello che si scopre che non ve lo sto a dimostrare ma ovviamente dimostra che con la rappresentazione di complemento 2 le operazioni di somma e sottrazione non mettiamo in mente la moltiplicazione è più complicata le operazioni che conosciamo di somma e sottrazione sui numeri in complemento 2 si fanno come se i numeri fossero in binario puro cioè se due numeri in complemento 2 da sommare o da sottrarre io applico la stessa macchinetta di due settimane fa in cui abbiamo imparato a fare la somma con i riporti eccetera eccetera quella lì funziona e il risultato che mi dà è giusto anche se in realtà il numero è codificato con una regola diversa quindi questo è un vantaggio per chi deve costruire un computer perché è un circuito unico che fa la somma e quel circuito lavora sia che tu gli metti dentro due numeri assoluti e esce fuori un numero assoluto sia che tu gli metti dentro due numeri in complemento 2 esce fuori un numero in complemento 2 con la stessa complessità di una somma normale mi trovo anche la somma algebrica non solo la stessa complessità proprio lo stesso meccanismo per cui se io prendo e non mi devo preoccupare dei segni degli operandi cioè più col meno no no vanno a posto da solo i segni da soli i segni non devo fare ragionamenti come farei come dovrei fare scusate oggi l'italiano non mi è entrato come dovrei fare se lavorassi in modulo di segno come facciamo ogni decimale ma aspetta questa è una somma ma i segni come sono devo davvero fare una somma o una sottrazione quello che dicevamo all'inizio dell'ora no va a posto da solo ok allora se questa è un'ipotesi no di un'operazione adesso poi proviamo a farla il bello è che se entrasse adesso in aula qualcuno che ha preferito dilungarsi sul panino e non venire alla lezione subito e vedesse questa somma dice scusa ma non ho capito perché corno ha perso un'ora che queste cose le sapevamo già fare la settimana scorsa perché questa somma la saprebbe fare senza saper nulla di complemento 2 senza saper nulla di numeri relativi la farebbe pensando che questi fossero numeri assoluti numeri naturali ecco il risultato di quell'operazione è corretto sarebbe corretto il computer ovviamente era la persona che entrava era il computer che fa le operazioni senza capire cosa sta facendo ma se applica quel metodo no quell'algoritmo il risultato quadra è corretto quindi noi qui vediamo una somma noi sappiamo che questa è una somma tra un numero positivo e un numero negativo perché ci hanno detto che è in complemento 2 facciamo finta di non saperlo cosa è questa operazione allora non guardiamo la slide proviamo a farcela noi 0010 poi continua con 0110 più 1120 e poi 1011 vabbè cosa ci dice la macchinetta della somma si dice beh comincia dal bit meno significativo 0 più 1 fa 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 fatemelo scrivere tenere col pollice il riporto e non scriverlo sopra sennò oramai siamo bravi 1 più 0 più 1 di riporto fa di nuovo 2 cioè 0 col riporto di 1 e quindi rimetto il riporto in mano qui di nuovo 0 più 1 più 1 di riporto fa 0 col riporto di 1 0 più 0 più 1 di riporto fa 1 senza più riporto 1 più 0 fa 1 non c'è nessun riporto da sommare 0 più 1 fa 1 non c'è riporto da sommare 0 più 1 fa 1 non c'è riporto da sommare cosa ho fatto? ho fatto la somma di un numero positivo più un numero negativo e mi è venuto fuori un numero negativo che ci sta se posso dirlo così questo numero è meno negativo del primo vedete che qua ho degli uni qua ho più uni nel risultato quindi ci sta ha preso un numero negativo gli ho sommato un numero positivo quindi il risultato è un po' più in su nella retta dei numeri ma al di là di questo è vero? è giusto? allora quanto valgono questi numeri? adesso fatemi barare perché scusate qua andiamo su 8 bit metto dentro questo valore vale 38 0 0 1 0 0 1 1 0 non sto varando perché abbiamo appena dimostrato che lo sappiamo fare quindi poi quest'altro numero invece vale meno 53 questo sito qua è carino perché ti fa vedere questo è binario se questo fosse un numero senza segno quindi assoluto farebbe 203 se fosse un numero con segno quindi in complemento 2 vale meno 53 quindi ovviamente non può saperlo e ti fa vedere due ipotesi ma poi noi lo sapevamo perché basta mettere uno 0 qua e viene 75 se vogliamo farci il calcolo faremo meno 128 più 75 che tutti sanno che fa 53 quindi meno 53 questo sotto quanto farebbe? andiamo qui a chiederlo al sito meno 15 allora è vero che meno 38 più meno 53 fa meno 15 e allora 5 meno 3 scusa 13 meno 8 fa 5 e 4 meno 3 fa 1 sì ok quindi le operazioni tra numeri espressi in complemento 2 si svolgono materialmente esattamente nel stesso modo in cui si svolgerebbero se i numeri fossero in binario puro e i segni si mettono a posto da soli ok e questo è un vantaggio perché abbiamo imparato un metodo solo e lo applichiamo in due casi questo è il vero motivo per cui i calcolatori usano sempre la codifica in complemento 2 quando rappresentano i numeri negativi vabbè qui c'era la verifica ma noi l'abbiamo fatta e la stessa cosa sulla sottrazione poi vedete che sullo slide lo fa in un modo diverso ma alla fine l'operazione ovviamente 0 meno 1 fa 1 con il prestito bisogna prendere il prestito quindi ricordate che prendiamo un prestito di 1 qua e sommiamo 2 quindi viene 2 meno 1 la stessa operazione che facevamo la volta scorsa quindi non c'è nulla di nuovo il risultato viene giusto se può se possibile ci sono dei casi in cui il risultato non può venire giusto vediamo due esempi un esempio facciamolo sui 4 bit così facciamo prima se io faccio questo 0 1 0 0 più 0 1 1 0 per dirne 1 cosa fa? beh applica la macchinetta 0 1 0 1 perché qui c'è un riporto 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1 allora se lo leggessi in binario puro qui c'è scritto 4 più 6 uguale a 10 se lo leggo in complemento 2 qui c'è scritto più 4 ovviamente è un numero positivo qui c'è scritto più 6 e qui c'è scritto meno 6 meno 8 più 2 4 più 6 uguale meno 6 che non è proprio giusto quindi c'è stata una condizione di overflow la volta scorsa chiamavamo così quando il risultato che emergeva di un'operazione non era corretto rispetto dell'aritmetica dei numeri infiniti per colpa della rappresentazione finita dei numeri che avevamo quindi qui sarà lo stesso tipo di colpa ma me ne sarei potuto accorgere cioè nella somma tra numeri positivi ci accorgevamo di una condizione di overflow quando c'era un riporto ricordate un riporto in uscita dal bit più significativo e dicevamo questo riporto qua dove lo metto? e il fatto che non avessi nessun posto in cui metterlo evitiamo scurrilità significava che c'era un overflow qui il risultato che saltava fuori mancava di un pezzo e quindi era sbagliato qui non c'è stato questo riporto cioè c'è stato un riporto a metà l'1 più 1 che fa 0 che dà un riporto ma poi lo 0 più 0 più l'1 di riporto mi ha dato un 1 tranquillo in fondo e questo 1 tranquillo non ha avuto un riporto a sua volta su un ipotetico quinto bit che non abbiamo il discorso che facevamo l'altra volta quindi nelle operazioni in complemento 2 che si fanno con lo stesso meccanismo del binario puro può capitare un overflow anche se non c'è un riporto e idemi contrario se io vi facessi un'altra somma che può essere 1 1 0 0 più 1 1 1 1 ad esempio qui facciamo le operazioni 0 più 1 fa 1 0 più 1 fa 1 1 più 1 fa 0 col riporto di 1 1 più 1 più il riporto fa 3 quindi 1 col riporto di 1 qui c'è un riporto da qualche parte di 1 ovviamente questo riporto c'è stato se fosse un numero in binario puro diremmo ah riporto quindi overflow invece proviamo a fare i conti ovviamente questo non lo guardiamo perché non esiste l'altra volta lo mettiamo tra parentesi per ricordarcelo questo qui che numero è? meno 4 questo qua che numero è? meno 1 questo qua che numero è? meno 8 più 3 meno 5 perfetto è giusto è giusto nonostante ci sia stato un riporto fuori dal bit più significativo che è anche il bit di segno allora questo ci insegna una cosa e poi un'altra la prima cosa che ci insegna è che quando facciamo le operazioni in complemento 2 il riporto non lo dobbiamo guardare il riporto in uscita dal bit più significativo perché non ce ne frega niente possono esserci delle operazioni sbagliate senza nessun riporto possono esserci delle operazioni giuste anche se c'è riporto semplicemente non indica niente e come faccio allora a capire se un'operazione è andata a buon fine oppure no semplicemente confrontando i segni cioè il teorema che dice che le operazioni in complemento 2 si fanno come se facessero in binario puro ti dice che il risultato è corretto se i segni sono corretti se e solo se se vogliamo mettere una buona misura quindi positivo più positivo uguale a negativo no quindi overflow non vado a vedere il riporto vado solo a vedere la colonna più a sinistra i segni hanno senso i segni è possibile che la somma di due nei positivi dia un negativo no quindi c'è stato overflow punto negativo più negativo uguale a negativo ha senso sì ok quindi non c'è stato overflow in complemento 2 l'overflow cioè il risultato errato quando c'è avviene sempre in modo da sbagliarvi il segno non ci sono condizioni subdole per cui il segno viene giusto ma il risultato è sbagliato e quindi faccio l'operazione ok ho un risultato per chiedermi se questo risultato è giusto o no ovviamente non faccio il calcolo in decimale come potrebbe il computer fare il calcolo in decimale che non ce l'ha il decimale lui ma vado semplicemente a controllare i segni se i segni sono coerenti bene questo sia sulla somma che sulla sottrazione cioè se io avessi un numero a caso i cui sottraggo un altro numero non faccio l'operazione ma come deve venire il segno qua ho un numero negativo a cui sottraggo un numero positivo e quindi il risultato diventa ancora più negativo se si può dire e quindi il risultato farò tutti i conti ma il risultato deve venire negativo o un negativo meno un positivo il risultato deve essere negativo se per caso dai conti venisse fuori là che c'è uno zero vuol dire che c'è stato overflow non lo so se questo è overflow a occhio non ci riesco a vederlo se invece avessi ad esempio questa sottrazione qui ho un numero negativo meno un altro numero negativo come deve essere il segno del risultato? la D dell'ingegnere qual è la D dell'ingegnere? dipende dipende a quale dei due è il valore assoluto più grande ma questo vuol dire che se fosse positivo va bene se fosse negativo va bene uguale perché dipende quindi in questo caso sottraendo due numeri negativi non può mai capitare overflow mai così come sommando due numeri di segno diverso ho sommato un numero positivo più un numero negativo il risultato può venire positivo può venire negativo dipende in ogni caso non potrà mai verificarsi overflow ma se vogliamo una spiegazione intuitiva è che quando sommo due numeri di segno opposto il risultato della somma è compreso tra i due addendi è maggiore del numero negativo e contemporaneamente minore del numero positivo e quindi se i due numeri erano rappresentabili a maggior ragione la loro somma che è compresa tra i due sarà rappresentabile non rischi di andare fuori dalla retta dei numeri però la regoletta è più semplice no? faccio i conti guardo i segni i segni quadro sono opposto i segni sono incompatibili con gli addendi overflow punto che è quello che è riassunto qua qui parla della somma dice che ovviamente se gli operandi hanno segno di scorde non si può mai verificare l'overflow è un ragionamento che abbiamo appena fatto se hanno segno concorde positivo più positivo deve dare positivo se viene fuori negativo non va bene negativo più negativo deve dare negativo se viene fuori positivo non va bene e in ogni caso il riporto sul bit più intensificativo dobbiamo sempre ignorarlo ok? allora qui ci sono i limiti minimi e massimi che abbiamo già visto insieme questa è una tabellina riassuntiva sulle varie codifiche numeriche che abbiamo valore minimo valore massimo numero di bit eccetera eccetera modulo di segno l'abbiamo conosciuto così ma nelle operazioni tendiamo a non usarlo mai perché è scomodo ecco l'ultimo passo è quello di vedere come si estende ancora abbiamo detto oggi togliamo due vincoli uno che i numeri siano positivi e l'altro che i numeri siano interi qui stiamo usando una parola grande impropria rappresentazione dei numeri reali allora in informatica in realtà non esistono i numeri reali perché i numeri reali sono infiniti hanno precisione infinita e le computer la precisione infinita non esiste però li chiamiamo reali per comodità per dire numeri con la virgola non numeri frazionali allora anche qua partiamo dal da cosa facciamo in decimale in decimale per rappresentare il numero chiamiamolo reale per comodità usiamo il segno di virgola quindi ci siamo inventati un segno in più la virgola che separa la parte intera dalla parte frazionaria allora la virgola in realtà nei bit non c'è o è 0 o è 1 quindi va bene usare il concetto di virgola non sarà una virgola decimale sarà una virgola binaria e quindi in decimale cosa succede dopo la virgola dopo la virgola ho le potenze 10 alla meno 1 10 alla meno 2 10 alla meno 3 10 alla meno 4 e la virgola binaria dopo la virgola binaria avrò le potenze 2 alla meno 1 2 alla meno 2 2 alla meno 3 2 alla meno 4 un mezzo un quarto un ottavo un sedicesimo e vabbè come faccio a sapere dov'è la virgola però visto che non posso scriverla dentro i bit i bit sono 1 0 non c'è 1 0 e virgola no allora ho una possibilità quella di dire decido a priori dove sta la virgola quindi su 8 bit decido che i primi 5 bit sono la parte intera gli altri 3 sono la parte frazionaria e quindi su un numero di 8 bit non dirò più leggendo da destra 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 2 alla 4 ma partirò da destra se ho 3 bit di parte frazionaria 2 alla meno 3 2 alla meno 2 2 alla meno 1 e poi la parte intera 2 alla 0 2 alla 1 2 alla 2 2 alla 3 però devo decidere prima dove sta la virgola perché non posso avere un numero in cui abbia 3 cifre di parte intera e 2 decimale 5 intera e 3 decimale e un altro in cui siano 4 e 4 perché poi alla fine sono tutte parole da 8 bit come faccio a saperlo e su alcuni tipi di applicazioni dove so già qual è il range di numeri con cui avrò a che fare quindi so già quali sono le parti intere il range di parti intere la precisione che mi serve per la parte decimale può avere senso ma per applicazioni più generali di calcolo generale è un po' limitativo perché se io mi metto a fare i calcoli sulle distanze astronomiche di milioni di chilometri mi serve tanta parte intera e non me ne frega niente la parte frazionaria se misuro in metri o in chilometri se invece vado a fare le misure atomiche mi serve tanta parte frazionaria di parte intera non ho niente perché sono tutti zero virgola allora infatti quando noi lavoriamo in notazione scientifica sulle materie scientifiche noi non scriviamo 0,0001 scriviamo 10 alla meno 5 o 1 per 10 alla meno 6 cioè noi usiamo la notazione scientifica in decimale per indicare con questo esponente di quanti posti bisogna spostare la virgola per 10 alla meno 8 vuol dire ok rispetto al numero che ho scritto immaginate che la virgola sia 8 posti più a destra scusate più a sinistra e viceversa 10 alla 42 significa aggiungi 42 0 o sposta a destra la virgola di 42 posizioni quello che facciamo normalmente ecco anche in binario possiamo usare una notazione scientifica e da cosa è caratterizzata un numero in notazione scientifica ovviamente in binario useremo le potenze del 2 e non le potenze del 10 ma un numero in notazione scientifica è dato da 3 ingredienti il segno più o meno davanti la mantissa cioè un valore si chiama mantissa e un esponente e un esponente l'esponente da appiccicare al 2 che poi in realtà è il valore che è esposta la virgola a destra o a sinistra questo esponente a sua volta può essere positivo o negativo quindi data questa formula per rappresentare un numero reale tra virgolette in notazione scientifica binaria basta che io ti dia queste tre informazioni il segno la mantissa e l'esponente e quindi prenderò una parola di bit 16 bit 32 bit 64 bit quanti ne ho deciderò a priori che il primo bit è il bit di segno e quindi di fatto sto usando una notazione in modulo e segno ne abbiamo parlato tanto male ma sui numeri reali viene più comodo usare modulo e segno poi un certo numero di bit decido a priori quanti per l'esponente un certo numero di bit per la cosiddetta mantissa è una parola strana mantissa ma vuol dire semplicemente il valore del numero ok la mantissa la rappresento in virgola fissa così fa rima cioè è come se fosse un numero dove la virgola è sempre qua all'inizio virgola qualcosa qualunque numero spostando l'esponente si può sempre portare così 3,14 lo scriverai 0,314 per 10 alla 1 quindi avrai la mantissa che è 0,314 l'esponente 1 in decimale in binario viene fuori una cosa diversa quindi ho un mix di rappresentazioni complessivamente ho un modulo a segno perché è un segno staccato dal resto poi il valore assoluto lo mescolo con una mantissa che rappresento in virgola fissa con la virgola davanti e un esponente che ha una potenza di 2 positiva o negativa che sposta questa virgola virtuale nel posto in cui in realtà mi serve ho detto devo decidere a priori quanti bit usare per la mantissa quanti bit usare per l'esponente si e ci sono degli standard esattamente uno standard famoso i3 i754 che decide definisce due tipi di precisione la singola precisione e la doppia precisione in realtà quando voi scrivete float in python lui usa la doppia precisione quindi queste diciamo i float e double sono relative alla rappresentazione in C invece in python la singola precisione non la usa mai usa sempre la doppia precisione doppia precisione usa 64 bit 8 byte per un numero di cui un bit di segno 11 di esponente 52 di mantissa 11 bit di esponente vuol dire che la virgola si può spostare di 2 alla 10 posizioni a destra o fino a 2 alla 10 posizioni a sinistra ok 8 bit di esponente invece sulla singola precisione vuol dire che l'esponente andrà è un numero relativo su 8 bit da meno 128 a più 127 quindi quindi l'esponente il numero di bit di esponente mi danno un'idea dell'ampiezza dell'intervallo di rappresentazione ogni volta che aggiungo un po' di bit dell'esponente sto moltiplicando l'intervallo di rappresentazione mentre i bit della mantissa mi dicono quante cifre decimali corrette rappresento il numero più bit di mantissa più numeri dopo la virgola la posso scrivere poi a un certo punto li ho finiti finisce la mantissa non ho più altri bit per poterla esprimere quindi mi dà un'idea della precisione relativa è chiaro che la doppia precisione ha molto più intervallo di rappresentazione e molta più precisione nei numeri e lo pago ovviamente avendo la dimensione doppia poi ci sono delle stranezze nel senso che in questo formato la mantissa vi ho detto è virgola fissa la virgola la supponiamo che sia sempre qua ma non è 0 virgola ma è 1 virgola sottinteso sottinteso la virgola ma sottinteso anche l'1 perché in binario chiaramente la prima 3,14 è 0,314 e ho un 3 come prima cifra dopo la virgola in binario la prima cifra dopo la virgola è sempre un 1 sarebbe sempre un 1 per forza perché solo l'1 come numero diverso da 0 e allora si decide di sottintendere anche quello e risparmiamo un bit ma quelli sono proprio dettagli della rappresentazione che non ci stanno interessando più di tanto e il cugino del sito che abbiamo visto prima sui numeri naturali o relativi c'è anche qua che ci permette di giocare e ci fa capire il famoso 3,14 di cui abbiamo parlato se lo scrivo in decimale lui come rappresentato con segno 0 è un numero positivo con esponente poi ve lo spiego 128 e con mantissa questo numero qua e qui fa vedere a noi non vi chiediamo di fare i calcoli con i numeri o le conversioni con i numeri reali anche perché ci vorrebbe un po' di tempo un po' di manualità ma almeno solo di capire qual è il meccanismo funzionale qui ci fa vedere la formuletta partendo da questi valori 0 che è il segno questo qua verde che è l'esponente che sono questi bit qua e questo qua azzurro che è la mantissa convertendolo in base a 10 viene questa formuletta qua cioè questo numero l'esponente è codificato in un modo ancora diverso perché non è né in modulo di segno né in complemento 2 ma in eccesso 128 ma questo la chiudo la parentesi è un modo diverso di rappresentare i numeri relativi anziché sommare una zavorra negativa sottrarre mezza zavorra positiva ma poi non vado oltre vedete che se io cambio dei valori qua ad esempio cambio il bit di segno lui inverte il numero se io incrementassi di 1 l'esponente mi raddoppio il numero da 3 a 14 e 6 a 28 l'esponente anziché 0 lo faccio diventare 1 6 a 28 se prendo un esponente molto negativo mi vengono dei numeri 10 a meno 14 con potenza con la virgola molto spostata da un lato o molto spostata dall'altro questo giochino dei bit questo sito ci fa anche vedere spostando la linea verde che è l'esponente spostando la linea azzurra che è la mantissa tutti i numeri che si possono generare quindi se lo vedete qua sotto in tempo reale se io sposto la linea azzurra che è la mantissa cambiano i valori se sposto la linea verde vedete che il potenza di 10 varia da potenze molto alte a potenze molto negative va beh questo è rappresentato in singola precisione se fosse in doppia precisione viene fuori un mostro di 64 bit in cui il nostro caro 3,14 si rappresenta chiaramente su 64 bit o come al solito lui ci dice magari 3,14 perché il numero più vicino che ti posso rappresentare è 3,14 e poi schifezza in fondo su potenze molto negative del 10 qui attenzione qui siamo a mille un milione un miliardo mille miliardi un milione di miliardi un decimo di milione di miliardi esimi di errore quindi l'errore della presentazione è molto basso ma non è zero anche i numeri molto semplici tipo 0,1 non è rappresentabile un decimo non è rappresentabile in modo esatto in binario quindi questo è lo sapevamo già ma diamo per scontato che i numeri reali contengono sempre dentro di sé una piccola approssimazione un piccolo errore di cui dovremo tenere conto e quindi ovviamente il calcolatore dovrà fare il conto con questo ovviamente le operazioni somma sottrazione eccetera non impariamo nemmeno a farle saranno più complicate ma quello che ci interessa è avere consapevolezza che qualunque numero si può spezzare in questi tre modi il modo matematico di metterli insieme è questo e anche capire come definire il range va bene questo era quello che avevamo quindi oggi direi che sono le 16 possiamo interromperci di metterli insieme